Il grande lavoro che hai fatto tu, almeno da parte di una persona che è molto interessata a questo ma non ha mai approfondito, di valorizzazione sia di culture spontanee, chiamiamole così, che è un po' un controsenso, cioè di piante spontanee e che comunque si inseriscono nei nostri ecosistemi agricoli, volento o nolente, è una valorizzazione di quelle sia di piante che sono un pochino meno usuali, cioè non appartenenti alla nostra dieta comune in grandi quantità e quindi a me piace molto per due motivi. Uno, perché per chi approccia questo mestiere e si pone il problema della nicchia, come hai detto tu, indubbiamente è importante conoscere quali sono le possibilità. Ci sono molte che non vengono mai considerate, per esempio queste due di cui spero fra un attimo possiamo parlare un po' più in dettaglio. E il secondo punto di vista per il quale secondo me queste cose sono importanti è che appunto allargano la nostra dieta. Cioè spesso secondo me c'è un problema nel concepire la dieta di un paese come l'Italia, che si vanta di avere la cucina migliore del mondo e che è riconosciuto come quella che è la dieta migliore del mondo. Che uno, questa dieta è basata su tante cose che potremmo chiamare esotiche, e che quindi questo cozza con poi l'approccio che si ha alle esotiche in un altro contesto tipo agroforestale, eccetera. Secondo, che è molto limitato specialmente nei mesi estivi, io conosco tante persone come Benzantchete che mangiano soltanto tre ortaggi, quattro ortaggi, in tutto l'anno e soprattutto in estate. E quindi inserire altri elementi, imparare a conoscere tutte le varietà di ortaggi è un lavoro che noi in Inghilterra abbiamo preso un po' a cuore e abbiamo visto che quello che fai tu alla scoscesa è davvero eccezionale in questo senso. Quindi partendo da questa foto ci puoi dire un po' di questa pianta e poi magari altre piante lunghe. Allora, devo vedere meglio sta pianta, aspetta eh. Sì, non è la foto migliore. Ma l'hai presa tra le mie foto, no? Per riconoscere. Non l'ho presa tra le tue foto, ma è una pianta che abbiamo visto da te, è una pianta che forse un po' tutti hanno nelle proprie campagne, non si vede bene, è alliaria petiolata, è un alliario. Ah ok, sì, sì, ma infatti mi sembrava un po' più appuntita. Sì, è un po' più appuntita qui, non so se da un'altra parte, sì, vai. Allora, partiamo prima da questo aspetto. A me viene sempre in mente il libro di Patrick Whitefield sul crearsi, progettarsi la Forest Garden, no? Proprio all'inizio, nelle prime pagine, lui cita un libro del 1600, tipo di, diciamo di agricoltura, no? Inglese, cioè basato sull'Inghilterra, in cui husbandry, countryside husbandry, una cosa del genere. E dice che lì vengono citate, non mi ricordo se tipo 350 varietà di verdure che vengono mangiate. E io questa cosa la spiego sempre perché a me viene da dire, no? Cioè ora l'Inghilterra ha un clima che non è proprio l'Italia come clima mediterraneo, no? Allora, se nel 1600 se ne mangiavano 350, 370, mi ricordo, se noi oggi ci mettiamo, fra me e te, e comunque abbiamo passione per le piante, mangiamo tante cose, credo che non arriviamo a più di 150, capito? Voglio dire, cioè immagina la complessità che tu avevi in Inghilterra, immagina la complessità che noi potremmo avere qui, no? E questa è la cosa che a me ha sempre spinto a cercare di ragionare, uno sul trovare e valorizzare quello che cresce spontaneamente, e poi trovare anche cose che si adattano per aumentare, no? La possibilità. L'agliaria è una di queste, cioè nel senso l'agliaria è una pianta che a me è piaciuta fin dall'inizio, che cresce spontanea nei pianti, specialmente lungo i fiumi, no? In zone molto umide, comunque dove c'è umidità, non umidissime, però dove c'è umidità. È una pianta che è conosciuta specialmente nel mondo anglosassano come garlic mustard, perché è questa brassica che sa di aglio, pur non avendo l'allina. Si usa specialmente cruda, si può fare cotta, ma perde a quel punto il sapore, diciamo, dell'aglio, per spiegarlo a chi ci ascolta, no? E a me era piaciuta tanto. Cosa ho fatto? Io ho raccolto i semi e 4-5 anni fa ho cominciato a gettare semi in giro per la scoscesa, dove sapevo non avrei fatto l'orto, quindi dove sapevo che non andavo, però magari a disturbare il suolo, comunque a lavorarci, no? E speravo che nascesse. Per 4 anni non è nata. L'estate scorsa, pum, iniziamo a avere agliaria, non ovunque, però iniziano ad esserci quelle 2-3 stazioni in cui sta crescendo, no? Nel frattempo io, proprio perché avevo questa passione dell'agliaria, ma da me l'avevo visto e non veniva, frustrato da questa cosa, perché dicevo, vabbè, la vuol dire che il suolo non va bene, che non c'è abbastanza umidità. Ho cercato, parlando con un'altra persona, con Paolo Gullino, lui mi ha detto, metti la peltaria agliacea, perché la peltaria è, diciamo, la cugina dell'agliaria, ma cresce in ambienti più aridi, resiste meglio al caldo e al sole, per cui l'anno scorso l'ho messa. La peltaria ha preso benissimo e sta crescendo in modo incredibile. E quest'anno anche l'agliaria, dall'anno scorso anche l'agliaria si sta diffondendo. E per me è stato anche un feedback, no? Sul fatto che l'avere infiltrato dal 2018 acqua su un terreno che era molto più secco, se vogliamo, sta creando quelle condizioni perché l'agliaria possa crescere. È molto interessante questo. Fra l'altro noi siamo vicino a un fiume, infatti c'è tanta agliaria proprio nei boschetti qui vicino. Quali sono altre piante, partendo dal presupposto che magari parliamo fra di noi che facciamo questo mestiere, ci ascoltano persone che fanno questo mestiere. Piante spontanee che possiamo valorizzare sia in contesto commerciale, cioè condividere sul nostro mercato, cioè vendere, oppure anche soltanto aggiungere alla nostra dieta o invece che considerare delle infestanti, considerarle parti integranti dei nostri piatti. Vabbè, insomma è una pianta classica che tanti odiano perché dicono che è troppo presente, è quasi un infestante per molte persone, è la portulaca, che comunque voglio dire si può mangiare cruda, fresca, ma c'è questa ricetta campana che invece la essiccano all'ombra, appesa a fascine diciamo, e poi la rifanno in frittata a dicembre, la riusano durante l'inverno, e la reidrati saltandola in padella con un po' di acqua, poi gli fai sfumare del vino, e dice che sia buonissima. Per me la portulaca è la prima, uno dice guarda, non se ne tiene nemmeno conto, voglio dire. Il problema grosso sulle spontanee c'è da dire una cosa comunque, quelle che crescono spesso, le riconosci quando sono in fiore, e devi imparare a riconoscere quando non sono in fiore, perché magari spesso le puoi raccogliere appunto, posso pensare al papavero, che si raccoglie la rosetta basale, che qui in Toscana si chiamano rosole, io ho un ristoratore che mi chiede sempre le rosole, io tra che devo andare a cercare le rosole in giro per il terreno, quindi non è poco facilissimo, però sullo spontaneo è una cosa che metti in conto, loro lo sanno che raccolgo in selvatico, però devi riconoscere le rosole, cioè in mezzo a tutta una serie di piante che in primavera stanno crescendo, devi essere sicuro. Ascolta, se a me come spontanee voglio dire, una che credo sia molto interessante, è il tragopogo un po' rifoglio, la barba di becco in Toscana, che è simile a una radice come la scorso nera, come la scorso bianca diciamo, questa radice lunga bianca che si può mangiare, io devo dire la verità, a me piacciono tantissimo invece le foglie in primavera, prima che vada a seme, che poi diventano più dure, e quelle secondo me sono una cosa che arricchisce in modo incredibile, che sono molto minerali, è quella lì, quel fiore lì fatta a stella, la seconda immagine, ecco quello lì, quello è il fiore, si riconosce benissimo, vedi d'estate perché ti fiorisce in quel modo, ed è un fiore che si riconosce bene, riconoscerla ora è un po' più così, cecchi è un po' più un problema, però si impara, è facilmente riconoscibile quando si impara a capirne, no, le caratteristiche, a riconoscere le foglie, questa è una pianta che cresce per esempio tantissimo in Toscana, in tutta Italia credo sia diffusa, e che per me è fondamentale, è fantastica, è veramente eccezionale, è spesso poco conosciuta, si può mangiare appunto sia radice che le foglie, a me piace mangiare solo le foglie, perché bene o male la radice comunque poi ributta, per cui non sto impoverendo diciamo, la stazione di raccolta, altra che c'è, che è molto diffusa, è l'Alium Ampeloprasum, che è il porro selvatico, che in realtà i botanici perché sono così simpatici gli hanno cambiato nome, non si chiama più così, credo da un anno, non so come si chiami, Poliantum, Aglium Poliantum ora si chiama, ma è l'Alium Ampeloprasum, ed è il porro selvatico, io ti devo dire la verità, devo trovare il modo di replicare quelle condizioni che trovo in certe olivete, in cui ho dei porri selvatici, che sono più grandi dei porri coltivati, sono incredibili, e io da anni sto raccogliendo i bulbilli, e li distribuiscono nel terreno da me, perché voglio che si naturalizzi, e si trasferisca da me il porro, chi non debba andare a cercarlo in selvatico, anche quello io lo raccolgo, e lo vendo, però devo appunto sapere dove si raccoglie, e quando, per cui ci sono differenti climi in cui magari matura prima o dopo, però vorrei essere un po' più comodo, averlo nella scoscesa. C'è questa versione che si usa in Inghilterra, in contesti agroforestali, si chiama Babington Leak, che è un po' una versione, penso più vicina a quella selvatico, e quello credo che si possa proprio coltivare, però appunto ha bisogno di condizioni quasi boschive, Martin Crawford, che era proprio vicino a dove eravamo noi, lo usava molto, quindi mi chiedo se magari anche quello selvatico, voglia un po' delle condizioni di foresta giovane, o comunque di... Ma in realtà allora questo qua no, scusate solo un secondo, Sara, devo dire Sara, il pranzo è lì, e niente vai, asciugati pure se ti sei bagnato, tornata la figlia da scuola. Allora, secondo me no, perché l'aglio, il porro selvatico almeno che io trovo qua, l'aglio Ampeloprasum, cresce in realtà in zona abbastanza siccitose, ben drenato come suolo, e cresce comunque al sole, cresce al sole perché cresce nelle olivete, specialmente abbandonate che non vengono tanto lavorate, ma anche in pianti vecchi, in cui gli olivi sono abbastanza ampi, e ha la caratteristica però che spesso lo trovo sotto i roveti, sotto i rovi, quindi è al sole, perché magari la siepe che tu hai di rovi è al sole, lui cresce sotto i rovi, il che è un po' un problema raccoglierlo perché ti buchi, però è interessante perché quando ha queste condizioni, lui tende a crescere più lungo per andare alla luce, ok? E quindi stando poi in ombra sotto i rovi, si imbianchisce, questa è una cosa fantastica, e vorrei riuscire a trovare la stessa possibilità di replicare queste condizioni in un ambito diciamo semi coltivato, comunque un ambito agroforestale sotto gli alberi, e sarebbe stupendo. Qui c'è secondo me il grosso aspetto che è importante nel modo in cui noi facciamo agricoltura, che è quello di osservare le condizioni che tu hai, specialmente quando parliamo di spontanee, che tu hai negli ecosistemi meno disturbati, non che non siano antropizzati, perché bene o male, stiamo parlando di ecosistemi, l'Italia sicuramente è tutta antropizzata, però meno disturbati, capire quali condizioni quella pianta sta cercando, o in quali condizioni riesce a crescere, e capire come replicarli nel tuo progetto, no? Certo. E quindi secondo me c'è questo interessante aspetto, che comunque quando tu vai a raccogliere lo spontaneo, c'è comunque un lavoro di osservazione per poi riprogettare, no? Il porre è un ortaggio interessante, perché secondo me, una cosa che abbiamo notato spesso, è che si consocia bene proprio per questo effetto di sbianchimento, che può ottenere dalla cose, dalla chioma folta, diciamo così, ora anche ortaggi che crescono accanto, che possono un po' sbianchirne il fusto, ma anche una cosa che si fa ora un po' più spesso in Inghilterra, è quella di coltivarlo in gruppetti, non isolato, e cosa che per esempio in questi porri dal bulbillo, ora non so esattamente questo qui più toscano, però quello il Bebinton Leak, quello inglese a cui pensavo prima, cresce di solito in gruppetti, proprio perché questi bulbilli si riproducono poi, per via vegetativa, e quindi noi abbiamo notato che anche quello coltivato, seppure venga meno consistente, meno regolare dal punto di vista della pezzatura, comunque crescono molto bene, e poi avere una resa molto più grande per metro quadro, di un misto, di porri piccoli da ristorante, e porri grossi, magari più per il cliente privato. Invece ti vengono in mente altre spontanee, sempre pensando magari a colleghi che hanno voglia di ampliare il proprio, anche così una lista che ti viene... Allora, trago poco, quindi barba di becco, porro selvatico, l'agliaria sicuramente, se si hanno le condizioni, sono la peltaria, vabbè, poi classica la sicoria, voglio dire, ecco, una cosa che secondo me anche è la rucola selvatica, quella che si riesce a trovare. Ce ne sono due tipi, no? Quella col fiore bianco, io intendo quello col fiore bianco, che da me cresce benissimo, e che sto diffondendo da quattro anni ormai, in giro per il terreno, non mi ricordo nemmeno più quei semi da dove vengano, perché io la coltivavo sotto casa in una iguola, ma tipo otto anni fa, e mi raccoglievo i semi e me la riseminavo, in realtà poi lei buttava i semi da sé, e ho portato, credo, una manciata di... un sacchettino di semi alla scoscesa, l'ho buttato nel 2015, e da allora si sta riproducendo. Ecco, quella lì per me... Diciamo, anche su questo aspetto qui, quella rucola lì, io non so com'è, ma l'altica non ci va, e non so se perché non cresce in un'aiuola, non cresce in file dritte, non cresce tutte, perché le piante vengono... Io comunque ho, ora ho come... è come sul discorso dei porri, che comunque sì, il porro selvatico cresce a mucchietti, ovviamente, cresce a gruppetti, anche la rucola fa dei cluster, diciamo, fa dei ciuffi, fa una serie di piante, poi c'è un buco, e poi c'è un'altra sorta di serie di piante, no? Io ora ho rucola, da cui sto raccogliendo le foglie, e sto raccogliendo poi i capperi, no? I boccioli chiusi, e i fiori, e poi raccoglierò i semi, che sono alte un metro e mezzo, ok? Che si sono seminate da sé, e sono germinate praticamente a gennaio-febbraio, quindi in un periodo in cui comunque una rucola coltivata la dovresti mettere sotto TNT, cioè con i freddi che abbiamo qua, voglio dire che poi uno ha il suo clima, e per me è una cosa fondamentale questa cosa prima, cioè riuscire anche a coltivare il selvatico, lo spontaneo, e renderlo parte integrante di un progetto, da un certo punto di vista, è vero che hai bisogno di spazio per poi metterlo, ok? Da lasciare per lo spontaneo, però a me libera spazio nelle aiuole, cioè io di fatto vorrei arrivare al punto in cui la rucola, non la coltivo più, Gli spinaci non li coltivo più, perché comunque, ah ecco, una spontanea che non sarebbe proprio di qui, però che cresce tranquillamente, è la Blitzia tamnoides, che è uno spinacio chiamato spinacio del Caucaso, è un infestante, cioè io lo dico, noi da due piante siamo arrivati ora a averne quasi 40, fortunatamente è in un'aiuola con un muro a secco, quindi starà confinata, ma magari no, però è uno spinacio incredibile, quello riesce col nostro clima a rimanere perenne, cioè rinasce ogni anno dai suoi, dalla radice sottoterra, e la Blitzia tamnoides per me è incredibile, perché ha un sapore minerale, secondo me ha una densità nutritiva che è pazzesca, proprio perché ha questa, questo apparato radicale che è perenne, hai capito? Cioè è proprio diverso rispetto allo spinacio coltivato. Motivo per cui sto cercando di fare in modo di avere sempre più piante che mi permettono di liberare spazio nell'orto, diciamo nelle aiuole classiche, e farlo diffondere. Un'altra, già che parliamo sempre ora, mi stanno venendo in mente la lista, vedi, dopo la Blitzia tamnoides è la malva molive hensis, che è la malva verdura, che è una malva che viene dall'est Europa, e che è una malva non pelosa, è una malva a foglia liscia, ok? Sì. Si può usare come la malva, nel senso si mangiano i fiori, si possono mangiare le foglie, le foglie, quando sono piccole le puoi mangiare crude, o le puoi far saltate in padella come gli spinaci. Quindi già aggiungiamo, no? La Blitzia, la malva molive hensis, vabbè, il farinello, che è lo spinaccio, diciamo, che si trova ovunque, specialmente nelle tame di cavallo, perché ogni tanto io prendo delle tame di cavallo, mi nasce sempre il farinello, e quello ovunque, lo spinaccio, diciamo, spontaneo. Poi c'è lo spinaccio, quello che non può, di un giganteum, che è quello che ha le foglie, con la parte fucsia, fucsia, sì. Guarda, io vorrei riuscire a trovare il buon Enrico, e così sono arrivato a Malva, a Blitzia, a 5-6 varietà, di spinaci, di foglie che potrei usare come spinaci, Sì, sì, alternativa allo spinaccio. Hanno una ricchezza minerale molto diversa, e hanno delle condizioni, cioè io vedo il chenopodium cresce anche d'estate, voglio dire, non ha problemi, capito, e la spontanea però per eccellenza, perché poi la lista in testa ce l'ho, se me la chiedi così al chiocco non mi viene, ma poi è la Sinapis Arvensis, è la senape di campo, la senape selvatica, che in Toscana si chiamano rapaccini, la senape selvatica per me è più buona delle cime di rapa, io addirittura ho un ristorante che non mi prende, cioè prende ancora le cime di rapa, ma appena c'è la senape selvatica vuole quella, e basta, e le usa come cime di rapa, il sapore è fantastico, è incredibile, anche questa è una pianta sottoutilizzata, che veramente è incredibile, perché io l'ho vista fiorire a meno sette d'inverno, a gennaio, a dicembre, andare in fiore, fregarsene altamente, e l'ho vista crescere, andare a fiore d'estate, a agosto con 35-38 gradi, senza essere mai una pianta che cresce fuori dall'orto, cioè è una pianta che ha una rusticità incredibile, sia sul caldo che sul freddo, e l'interesse di questa pianta per me è sulle foglie, sui fiori, sia sul broccoletto, diciamo come la cima di rapa, ma sul fiore anche, che è commestibile, può essere venduto, può essere mangiato, e l'altro interesse per me è sui semi, immagina fare una senape, con questa roba qui, c'è il sapore che hanno, dici senape la salsa, sì sì sì, senape la salsa, come io vorrei riuscire a fare la senape, con i semi di rucola selvatica, capito, queste sono piante che, secondo me, crescono in ambiti, la senape selvatica cresce ovunque, ma è un problema. Una cosa che è interessante, fra l'altro le brassicacee hanno questa proprietà, che attirano molti parassitoidi, quindi se hai brassicacee che ti fioriscono in tempi diversi, soprattutto quelle selvatiche, e ti creano una banca, un habitat costante per parassitoidi, impollinatori, eccetera eccetera, che non è da sottovalutare, la rucola, i fiori della rucola, i boccioli della rucola, i semi della rucola, le foglie della rucola, sono poi, cioè se uno pianta rucola, anche soltanto con lo scopo di usarla come habitat per parassitoidi, si becca come effetto collaterale, e tutti questi raccolti, poi quella selvatica, ha il vantaggio. C'è una cosa, ecco, volevo sottoporti questo approccio, che qui sembra avere più senso, almeno, quando uno, forse semplicemente perché qui abbiamo un sistema agroforestale giovane, quando uno sta pianificando, progettando un sistema agroforestale, un approccio potrebbe essere quello di avere, soprattutto se uno sta progettando, un sistema successionale, solitamente c'è una placenta, cioè, per approfittare delle condizioni disturbate, soleggiate, esposte in senso lato, dei primi anni, nei quali gli elementi perenni non sono ancora abbastanza grandi da fornire tutti gli altri servizi ecosistemici, uno di solito pianta una placenta, che può essere ortaggi, può essere fatta di ortaggi, o un sovescio, una cover crop, però ecco, un approccio diverso potrebbe essere quello di, per esempio, noi abbiamo tanta artemisia, quella rizomatosa, che potrebbe anche quella essere usata come un prodotto, però diciamo, non è proprio l'ideale, ma alcune di queste piante che descrivi tu, potrebbero essere una placenta perfetta, perché oltre a essere sicuri che nel nostro contesto vengono bene, perché erano delle infestanti già prima ancora che noi arrivassimo, delle spontanee dovrei dire, in più assolvono a quella funzione ecologica di pioniere, e in più mi danno un raccolto, oltre a coprire il terreno, prepararne le condizioni per il dopo, potrebbe essere appunto un approccio, quello che hai fatto tu, sparpagliare i semi nel tuo sistema, che è un pochino più, se vogliamo, complesso, perché è già un bosco esistente, eccetera, potrebbe essere sistematizzato, nella progettazione, che ne pensi? Allora, assolutamente, credo che, un'altra che non ho detto, ma che cresce veramente ovunque, ma ti dico perché la nomino è la piantaggine, la lanciolata, la lanciolata, perché io mi sono, ho notato negli anni, tutte le volte che scavo un bacino, quindi disturbo il suolo, perché faccio una diga e faccio diciamo il lato del bacino, il primo anno, viene tutto coperto da piantaggine, è assurdo, cioè la piantaggine cresce da noi, perché cresce, non è che, però stranamente si propaga lì dove c'è un disturbo incredibile del suolo, trova quelle condizioni, e sicuramente, allora, io credo che, da noi per esempio, parto anche da un aspetto in più, a parte il tuo discorso sul parassitoidico, è molto interessante, e che effettivamente si è notato, perché da noi, anche il fatto che fioriscano in periodi dove non c'è altro, perché la siena preservativa va in fiore a gennaio, cioè, voglio dire, è una cosa incredibile per tutta una serie di, se tu hai un periodo un po' più caldo, e certi insetti magari cominciano a riprodursi, e non hanno cibo, e quindi invece si trovano quello, però, io devo dire la verità, che nelle condizioni specifiche mie, terreno molto alcalino, ok, con calcare attivo molto alto, la cosa interessante, è che la senape selvatica, la rucola, anche per dire un aglio, che spesso viene messo anche nelle placenti, magari viene messo l'aglio, la base del sistema agro, all'inizio del sistema agroforestale, a me quello che interessa, che me ne sono occupato per il mio terreno, è che sono tutte piante ricche di zolfo, che vanno a, il momento in cui quella biomassa, diciamo, si decompone, sono grandi accumulatrici di zolfo, ridà lo zolfo al terreno, e lo zolfo blocca il calcare attivo, riduce gli effetti che il calcare attivo ha su altre piante, un po' più delicate, come quelle orticole che noi abbiamo, che poi non sopportano il calcare attivo, invece le spontanee, se ne fregano altamente del calcare, perché secondo me equilibrano probabilmente, questo aspetto del calcare, accumulando appunto zolfo, io in certe determinate condizioni, assolutamente andrei su queste piante qui, per un'idea di questo genere qua, nel senso che sono piante, che ti danno, svolgono più funzioni, da un punto di vista impollinatori, del suolo, e secondo me hanno anche degli aprati radicali non indifferenti, quindi comunque riescono ad intervenire anche sul decompattamento, se vogliamo, e poi ti danno un raccolto, quello sì, assolutamente. E poi come dicevi tu, ci torniamo magari dopo, se parliamo un attimo di K&F, l'idea è che la banca di biodiversità, chiamiamola così, data dalle spontanee, dalle cosiddette infestanti, è una risorsa immensa, perché quelle piante si sono evolute per performare bene, in condizioni che noi consideriamo ostiche, che sono ostiche per le orticole, quindi possiamo poi mutuare quella forza, che hanno codificato nella loro genetica, per crearci poi dei macerati, dei fermentati, eccetera, e conferire un pochino di quella parte, che può essere trasferita enzimaticamente a altre piante, poi magari ci torniamo dopo, volevo tornare un attimo alle immagini, perché c'è un sacco di cose da chiedere. però è già stato super interessante questo, sono sicuro che, se anche soltanto gli ascoltatori ne ricavano un decimo di quello che ne ho ricavato io, sarà. Quindi abbiamo parlato di alcune, di alcune, oltre che spontanee, alcune magari piante coltivate, che sono molto alternative, diciamo, alle orticole comuni. Ci vuoi fare solo brevemente una, una lista di cose che magari coltivi, che sono un po' inusuali, che invece hai introdotto proprio tu nei tuoi lettori di coltivazione, ne avevi, mi ricordo, uno in pietra vicino a un casotto, lì, a una capanna, e ci dicevi che lì coltivi alcune specifiche. Allora, sì, noi abbiamo inserito la basella rubra, che comunque l'ho conosciuto come lo spinaccio indiano, la malva, quello che ho detto prima, e lì vicino al capanno, lì al terreno, c'è appunto anche la blizia tamnoides. In realtà, per dire, ora stiamo lavorando molto sulla riproduzione, cercare di capire come valorizzare la lunaria annua, la moneta del Papa, di cui si mangia tutto, si mangia il fiore, si mangiano le foglie, è un'altra cosa che si potrebbe usare per le foglie, tipo spinaccio, e che ha una ricchezza, anche se non è minerale lì, pazzesca, perché è una pianta che di fatto, voglio dire, si risemina, ma non solo, ma ricresce, secondo me, dallo stesso apparato radicale, per cui di fatto è una perenne, e si mangiano le silique, cioè la moneta del Papa, quando inizia a formarsi la silica, dove c'è il baccellino con i tre semi, che poi noi vediamo tondo, quello si mangia, e mi hanno detto che viene benissimo anche fermentato, cioè sono tutte possibilità, e su quello stiamo lavorando moltissimo per riprodurlo, e sta attecchendo benissimo nel nostro suolo, senza essere mai stato annaffiato, e altre varietà che abbiamo, che stiamo cercando di riprodurre, che anche qui c'è sempre questo aspetto, in realtà, prima che tu riesci ad arrivare a un punto in cui hai una produzione di, ci vogliono anni, certo, perché diciamo hai l'orticoltura classica, cioè la melanzana, il cetriolo, il pomodoro, e poi tu continui a sperimentare per contro, su altra roba, credo che siano queste, poi abbiamo riprodotto l'anno scorso, e riseminato il carciofo cinese, che è quel tuberino, la stachis affinis, si sta che si affini, se è una menta tuberosa, no? Che però ha un, il tubero non sa di carciofo, cross non lo chiamano in Francia, è quello bianco, è una perla, però tu devi far bene l'interno. Che non sa di carciofo, che non sa di carciofo, però nel nostro terreno, ricchissimo di calcare, ha un sapore che è allucinante, davanti è forte, carciofoso, devo dire che è stato, l'ho mangiato e ho detto, ammazza questo, cioè anche lì, quella è una pianta che cresce bene o male, è abbastanza tranquilla, ogni idea di far chissà che, sono tutte possibilità, l'altra è la cosa che c'è, è l'atriplex alimus, l'erba sale, che è un atriplex, quindi è simile al farinello, allo spinaccio, diciamo che noi troviamo ovunque, che è stata, non è italiano, non è diciamo autottona, poi che vuol dire autottono, però diciamo non è, si è naturalizzata comunque in Italia, cresce vicino a Siena, vicino a un monastero, a un abbazia, mi sembra, a Montoliveto, in quantità incredibili, e noi la stiamo inserendo, perché? Perché questa qua, in inglese, è conosciuta come saltbush, diciamo, cespuglio del sale, no? Sono piante che adorano il calcare, e quindi io, avendo il calcare, dico, vabbè, cerchiamo tutto quello che adora il calcare, è una pianta interessante, perché ha queste foglie, che sono salatissime d'estate, quando c'è più siccità, e c'è più caldo, il mio sogno è di essiccarle, farci una polvere, e usarla al posto del sale, specialmente cercare di capire, credo di aver trovato articoli scientifici, che confermano che non sia NACL, quindi non è sale, e per chi ha diete, che devono essere, in cui il sale deve essere escluso, sarebbe una cosa molto interessante, noi ne stiamo in realtà coltivando, allora, altre tre, Atriplex Alimus, e quella che tu hai visto, quando sei venuto, e c'è l'aiuola, lì in pietra, vicino al capanno, poi in realtà stiamo riproducendo, da seme, abbiamo fatto l'anno scorso, abbiamo riprodotto da seme, l'Atriplex Numularia, che è sempre salata, ma è tendente all'amaro, l'Atriplex Canescence, che viene dalla California, e ha delle foglie, un po' più allungate, meno, diciamo, tipiche dell'Atriplex, che anche lei è salata, ne ho solo una pianta, perché sempre da Paolo Gullino, naturalmente, mi fa, guarda, ce l'ho io una pianta, te la do, perché non doveva riseminarle, mi ha detto, dai, te la do una pianta, così la riproduco poi da talea, e poi, l'altra è l'Atriplex Semibaccata, che è una tappezzante salata, fighissima, che ha delle foglie, che sembra tipo un timo, diciamo, ok, ricorda un po' il timo, e fa queste piccolissime bacche rosse, che sembrano dei chicchi di melograno, ma calcola che sono tre millimetri, cioè sono veramente piccoli, che è una foto molto ravvicinata, adesso si vede su internet, sembrano grandi, in realtà sono piccolissimi, ed è una pianta però che, che ha resistito benino, al freddo, a meno sette, le altre stanno benissimo, la Canocens, la Numularia e l'Alimus stanno bene, la, questa qui ha resistito un po' meno bene, però ho visto che sta già ripartendo, questa è ancora in fase proprio di riproduzione, ma questa per me è una tappezzante, la mia, la mia idea è quella di avere, ai vuole in cui, ho magari, dell'aglio, del porro selvatico e tutto, ma con sotto questa qui come tappezzante, facciamo ad ora viva, sì, oddio, lei in realtà ha una tappezzante, ma se trova dove arrampicarsi, potrebbe arrampicarsi, quindi potrebbe in teoria anche arrampicarsi sul porro, magari me lo stritola, però magari me lo sbianchisce, non lo so, sono infinite le possibilità, però è il fatto di trovare comunque lo stimolo di cercare, no? Cose in più, secondo me. Grazie.